Buongiorno a tutti, ciao. Prima di tutto vi ringrazio per la vostra ospitalità e ringrazio anche le persone che sono venute qui come anche semplicemente spettatori. Il mio intervento riguarda, siccome lavoro nel settore dell'educazione, sono insegnante di un istituto qui vicino come specializzazione informatica che è lo Zuccante, riguarda uno strumento per lo studio delle reti. In particolare oggi, prima di un'introduzione sullo strumento, vedremo una cosa un po' particolare come esercizio, diciamo così, tra virgolette, che è quella della sincronizzazione di alberi LEDAP in varie situazioni. In varie situazioni vuol dire che simuleremo due server LEDAP collegati in multimaster che rappresenterebbero poi nella realtà, perché poi queste cose vanno implementate nella realtà, una sede centrale come lo Zuccante e via Baglioni e una sede staccata vicino a Viale San Marco. E poi, come in tutte le aziende e anche in tutte le strutture, esiste l'area servizi, chiamata anche area DMZ, e quindi un terzo server presente in area DMZ. Quindi lo vedremo come esercizio, almeno spero, perché insomma le cose dal vero a volte possono anche non funzionare, spero proprio di no. Allora, che cos'è questo NET-KIT? E quando è nato? Quando sforo, chiamatemi perché siamo partiti tardi, però devo fermarmi in tempo. Però voglio anche raccontare la storia. NET-KIT si basa grossolanamente su due oggetti software open source. Uno è un oggetto che si chiama UML, che serve per virtualizzare. Il progetto UML è nato negli anni 2000 ed era uno tra i primi. Adesso rappresenta un po' la storia. della virtualizzazione. Però dopo vi racconto che anche comunque la storia è importante e la storia può essere usata. E questo anche nell'informatica. Questo progetto si basa quindi su UML e l'altro oggetto è Knopix. Knopix credo che tutti lo conoscano. Cosa serve? Mi è servito per impacchettare l'oggetto UML. Dovete sapere che, comunque tutti sono andati a scuola, le scuole sono invase al 98%, 99% da macchine window come client. E spesso quando c'è il server è un server comunque window. Nel 2003 sono partiti dei corsi dove io sono stato nominato tutor e io ho portato Linux al 100% su tutte le mie ore di lezione. Siccome la gente non sapeva usare Linux, ho dovuto costruire un oggetto che i docenti, perché erano quelli miei studenti in questo caso, che non sapevano usare Linux, non l'avevano mai visto o l'avevano visto raramente, potevano quindi tornare a casa e provare quelle cose che io mostravo a lezione. Quindi questo progetto è nato così. Ovviamente si possono analizzare altri pezzi di cui è composto questo NetKit. NetKit stesso è il nome, è un oggetto formato da un gruppo di script costruito da un gruppo di ricerca dell'Università di Roma 3, è un gruppo che studia le reti, specializzato proprio nello studio di reti a livello, diciamo, geografico. Quindi, per dire, l'insieme degli script arriva da NetKit, da questa gente qui di Roma. L'infrastruttura, cioè virtuale, arriva da UML. La distribuzione, perché se vogliamo dare un nome usata, è la CNOPIX, sostanzialmente, ed è nato e vive, anche attualmente, nonostante UML sia vecchio, vive proprio nel settore educational. Adesso, per problemi di visualizzazione, non ve lo mostro funzionante sull'Acer, d'accordo, che comunque qualcuno qui l'ha visto che era su. Perché? Perché la risoluzione grafica mi taglia qualche riga qui sotto. D'accordo? Dopo io, che non ci vedo bene, mi tolgono anche una riga sotto e allora non avrei saputo neanche muovermi. E quindi lo giro sul portatile. Comunque, quello che volevo dire è che, proprio perché lavoriamo nel settore dell'educazione, voi sapete quanto poco venga speso e quanto scarsi siano gli strumenti nei laboratori di informatica, l'avrete sperimentato, purtroppo, molti di voi, poi qualche fortunato ha potuto lavorare su qualche laboratorio ben fatto, però non credo sia la maggior parte. La cosa importante è che questo NetKit consuma poco. Consuma poco in settore informatico vuol dire, essenzialmente, consuma poca CPU e poca RAM. Quindi, per esempio, un bellissimo Acer, che ha tipicamente, questo non è un Acer espanso, quindi ha un N270, un A280 come CPU e ha un giga di RAM, noi possiamo vedere il nostro esercizio girare. Anche questo è importante perché la scuola ha macchine molto, molto limitate. Non so se c'è da convincere qualcuno di questo fatto, comunque, una parola in più, questo oggetto qui è nato come CD, poi è cresciuto ed è diventato un DVD e ci sono scuole che mi hanno interpellato perché il fatto che fosse diventato DVD metteva in crisi alcuni laboratori che non avevano il lettore DVD. Cioè, io non voglio esagerare, però andate nelle scuole, la situazione è così. Io spero vivamente che questo laboratorio e questo professore gliel'abbiano cambiato. Però, per dire, questo è un oggettino di questo tipo. Cercando di prepararmi un po' meglio queste slide, questa mattina ho scoperto una cosa che riguarda l'argomento che sto così illustrando, ma che è un aspetto molto interessante che mi ha fatto piacere. Cioè, nel settore educational, diciamo così, fuori dall'Italia è un progetto, diciamo, molto apprezzato. A parte che personalmente sono stato anche interpellato da ditte spagnole telefoniche che facevano progetti sulla telefonia per coinvolgermi. Io non mi sono neanche sentito all'altezza e non ho risposto affermativamente. Si trattava di telefonia su IP mobile, si trattava della telefonica. A quel tempo non sapevo molto di IPv6 e di telefonia e quindi ho lasciato stare. Ma per dirvi che UML, NetKit, nonostante usi tecnologia vecchia, che sarebbe l'UML, è molto usato, comunque anche fuori dall'educational. Comunque, stamattina ho visto che viene usato anche per lo studio di grandi, enormi reti. Proprio perché lui, consumando poco, lui come è nato? Un po' come Linux, consuma meno risorse. Un computer vecchio va benissimo. Io direi sempre di non esagerare. Comunque, un computer vecchio va benissimo. E questa è una carta vincente se io voglio andare su una scala larga. E quindi ho scoperto stamattina che qualche università... Adesso ho problemi perché sono stato non diligente. Mi sono costruito un account per navigare, quindi non posso mostrarvi in diretta. proprio la Università Batte la Pesca, straniera però non italiana, che ha prodotto degli script per costruire dei cluster di NetKit per lo studio di reti enormi. E questo lo permette proprio perché lui non consuma molto. Un'ultima cosa. viene usato in Italia, ovviamente noi lo usiamo allo Zuccante, in altri istituti dello stesso genere. Nel settore ovviamente c'è una materia che si chiama Sistemi e nella classe quinta viene studiato il networking, si fa un po', diciamo, il libro iniziale di Cisco, d'accordo? E si studia reti, servizi, protocolli e quindi i ragazzi sono ben contenti, chi non sa Linux, di portarsi o il CD o la chiavetta USB se la porta a casa. Come si lavora con questo NetKit? Si fa uno script, i famosi script base provenienti da Roma, sono qualche K, sono script di tipo, file di tipo testo, sono condivisibili, vabbè abbiamo grande connettività, però se uno avesse problemi di connettività, insomma, due o tre K si possono scambiare anche via email in maniera rapida, può uno sottoporre a un altro studente, guarda a me non gira, guarda a te, il fatto di lavorare col CD garantisce il fatto che uno ha la stessa piattaforma, se funziona su uno funziona pure sull'altro, e si scambiano quindi rapidamente le esperienze, le provano, le possono anche copiare purtroppo, però va bene anche questo, e poi possono essere sottoposte al docente in maniera rapida, che le corregge e vede funzionare, no? Cioè, come dire, non è un compito, sì, è un compito, ma è un compito eseguibile, d'accordo? Perché io lo lancio e vedo, se l'obiettivo è connettere quattro macchine e lanciare un server DNS, io lo lancio, faccio l'operazione di ping un nome e vedo che lo risolve, dopo posso andare nel dettaglio a vedere i file di configurazione, però posso anche rapidamente correggerlo, d'accordo? Esiste anche un settore, sempre dentro a Roma 3, che è il testing automatico, il testing automatico esiste da una vita, esiste soprattutto nel settore software, quando si fanno nuove release o si fanno fix dei bacchi, devo, cioè quello che produco, rilascio, deve essere, deve contenere le stesse funzionalità e non avere bacchi in più, eccetera. Esiste questa tecnologia, ha qualcosa a che fare con test unit, JUnit, esiste anche in Java, e quindi potrei addirittura costruire degli script che mi fanno il test automatico dell'esercizio, d'accordo? Questi, attenzione, che le macchine che girano in questo ambiente sono macchine Debian per costruzione, perché allo giocante installiamo Debian, d'accordo? Ci sono tante distribuzioni, non facciamo una guerra di religioni, abbiamo fatto così, d'accordo? per dire è possibile estrarre il file system della macchina virtuale e inserire un altro, lo script, gli insieme di script fatti da Uniroma 3 vanno bene per qualsiasi file system della macchina virtuale, d'accordo? Sono generici, in origine erano in perna, adesso sono in bash, quindi tranquilli, gira, non c'è nessun problema di porting, d'accordo? Solo che sapete, c'è un problema di applicazione, non posso sapere tutte le distribuzioni, posso sapere forse bene qualcuna, adesso io conosco essenzialmente la Debian e un po' la Centos. Ok, quindi credo di aver illustrato l'ambiente, d'accordo? Ed è un ambiente che nonostante la sua, dicevo e ripeto, la sua tecnologia un po' antica, un po' vecchia, viene usato nel settore educativo e non nel suo ambiente di nicchia, d'accordo? Anche, anche per studiare, vi dicevo, l'IPv6 e l'IP mobile, d'accordo? Perché posso proprio simulare lo spostamento di client lungo una rete. recenti sviluppi riescono a simulare anche parzialmente una rete wifi, che è una cosa diciamo molto interessante visto che le reti wifi stanno proliferando un po' dappertutto. Ok, allora, la versione USB è un po' più interessante perché e allora chi l'ha fatta? L'ha fatta Mr. Knopper che è un po' lento adesso a produrre le nuove versioni però sta sempre lavorando perché chi controlla la mailing list del Mr. Knopper sa e vede che una persona qualificata che fa una domanda specifica vede sempre la risposta proprio di lui in persona che dice no, è così, no, si fa così, grazie perché arrivano consigli sia da lui sia gli arrivano a lui una persona sempre molto disponibile. Quindi questa versione qui è stata rilasciata cioè da un piccolo contributo anche allo Zuccante anche quest'anno che è già partito ieri abbiamo fatto collegio a docenti e fa parte del progetto dello Zuccante ed è leggermente finanziata vuol dire insomma un pochino un 200 euro all'anno meglio di niente perché questo progetto era partito a zero lire insomma adesso sono due anni che c'è questo piccolo budget che insomma è sempre qualcosa e io lo ritengo importante comunque che la scuola dia un contributo se lo dà piccolo è relativo l'importante è che lo faccia d'accordo? allora vi ho detto prima l'esperienza virtuale quindi è un file anzi un insieme di file è abbastanza semplice il sito a proposito se volete vedere e usarlo ovviamente andate sul sito www.netkit.org questo è un dominio che ha registrato in più Uniroma 3 cioè l'università il reparto del settore di ingegneria di Uniroma 3 ha registrato questo qui e ha costruito quindi un wiki dove ci sono si può scaricare il cd il dvd tutte le loro esperienze sono sempre qualche k kilobyte quando il file system della macchina virtuale non ha quell'oggettino che vogliamo usare noi allora il pacchettino è un po' più grosso perché? perché noi possiamo aggiungere al file system della macchina virtuale nascente anche possiamo installare dei pezzi che non ha d'accordo? quindi in quel caso lo script contiene anche il pacchettino che vogliamo aggiungere e allora risulta un po' più grosso perché c'è il pacchettino stesso che al momento dello start up alla macchina virtuale viene installato d'accordo? quindi loro a Roma sono specializzati in routing di qualsiasi tipo è il loro lavoro sia dal punto di vista professionale sia lavorativo diciamo lavorativo e quello che io ho aggiunto a parte la costruzione del cd che io sono stato sempre io comunque a farlo nascere e poi a mantenerlo io ho aggiunto proprio tutte le i service dns mail samba ldap quello che vediamo oggi d'accordo? cioè tutti i servizi era una cosa un po' fuori loro portata o meglio non portata come capacità ma come interesse fuori interesse loro sono persone che studiano i routing a livello stratosferico e gli interessava meno problematiche tipo voglio studiare un firewall voglio studiare servizi d'accordo? invece era la cosa che dovevo fare io quando ho fatto i corsi in giro sia in provincia di Padova sia in provincia di Venezia dovevo dire ai docenti come metter su un'infrastruttura di scuola quindi server web firewall proxy d'accordo? questo è quello che io ho aggiunto proprio è la mia adesso tutte queste esperienze se andate sul sito sono un po' vecchie dovete pensare che non è facile tenere in manutenzione gli script per tutta un'infrastruttura di rete d'accordo? e quindi il progetto è un po' calato nel senso che il progetto dà mette a disposizione questa live cd per fare tante cose ma non si possono fare più in automatico c'è sempre la versione vecchia del cd che uno può tirarsi giù e sulla quale c'è una vecchia debia su cui si possono fare tutte le esperienze con proxy apache firewall d'accordo? adesso proprio per mancanza di tempo la distribuzione questo live cd non contiene più due distribuzioni all'interno in origine noi usavamo per i firewall delle scatoline che si chiamano WRAP adesso sono diventate hanno un'altra sigla sono un po' vecchiotte adesso ci sono le ALIX dove noi simulavamo prima prima studiavamo sul virtuale come fare un firewall come fare un wifi come fare un router filtrante per la connessione per esempio di un laboratorio al backbone della scuola e poi dopo lo realizzavamo su queste WRAP o su questi ALIX recentemente ecco questo oggetto qui non c'è più però nel vecchio cd c'è sempre a disposizione in pratica se fosse realmente finanziato il live cd potrebbe contenere varie distribuzioni proprio a misura della realtà in cui noi andiamo a operare d'accordo per esempio io potrei avere una scuola dove c'è centos anche window d'accordo e che ne so dei firewall tipo i pick up d'accordo mi costruisco i file system relativi e provo se andate sul sito vedete per esempio che c'è addirittura una mescolanza di un sistema appunto più un sistema window più una 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 debian sarge antica cosa serviva serviva a mostrare come si poteva costruire un server samba con una macchina window che si join a una macchina linux ed è tutto virtualizzato sia la macchina window sia la macchina samba configurata come pdc cioè primary domain controller d'accordo quindi io ho potuto quindi studiare completamente un'infrastruttura che in questo caso era scolastica ma credo che in un'azienda non cambia assolutamente niente completamente sul virtuale e mi sono fatto un'esperienza completa reale essendo dentro una macchina debia i file di configurazione sono estraibili e inseribili in una macchina vera d'accordo quindi non è che io mi metto a studiare una cosa che poi butto via i file di configurazione che funzionano sul virtuale ovviamente me li copio e li uso sul reale quindi quando devo adesso per esempio perché vi ho voluto mostrare questa cosa qua adesso la vediamo perché perché stiamo cambiando infrastrutture ci hanno cambiato le led up lo Zucante ha un ha un server in alta affidabilità quindi ne ha due dove ci sono tutte tutti tutti gli account un server led up che a quell'epoca era cioè era aggiornato adesso è un vecchissimo 2.02 2.2 adesso è uscita la 2.4 dobbiamo aggiornare e la problematica era questa ci hanno cambiato completamente il sistema di sincronizzazione meglio di replicazione tra i server e le led up come facciamo io me lo devo studiare d'accordo e l'architettura è piuttosto complessa perché abbiamo una sede centrale una sede di staccata la via adesso mi è venuta in mente via Cataneo una laterale viale San Marco e poi abbiamo il DMZ noi lavoriamo allo Zucante con piattaforme Moodle dislocate dove c'è la sede union camere tipo viale Ancona d'accordo che però accede come account gli account sono definiti dentro lo Zucante quindi noi abbiamo un serverino all'ed up in DMZ che serve per dar servizio a una piattaforma Moodle e il servizio che dà è l'autenticazione quindi abbiamo una disposizione di questo genere ed è da studiare il nuovo sistema di replicazione di led up ho detto va bene allora ho ritirato fuori il netkit e ho detto me lo studio qua ok e quindi era quello che avevo in canna anche per portare qua e per farvelo vedere quindi si lavora con un insieme di script un file di configurazione molto banale è un file generale dove c'è scritto il nome delle macchine e poi tanti file quanti sono le macchine dove si dice per esempio che IP dare che servizi far partire tutte queste cose qua quindi se ho 5 macchine ho 6 file un file principale dove ho l'elenco delle macchine che altrimenti lui non ha e poi tanti file quanti sono e dentro ci scrivo proprio comandi alla bash insomma d'accordo normalmente li distribuiamo sul nostro sito dello Zucante e uno fa semplicemente e sono in formato targz ovviamente quello è formato solito che bontà Windows riesce anche loro a leggerlo così come dice se lo studente lavora in Windows può depositare un file comunque se andate nel sito di www.netkit.org trovate un netkit che gira emulato dentro un sistema Windows quindi come dire è stato vestito sto netkit in tante salse ci sono dei recenti sviluppi di questi due baldi giovani che riescono hanno costruito hanno fatto un nuovo vestito costruito sulla fine di questo del mese scorso credo più o meno dove l'hanno vestito su comunque una penna usb ma è diventato un cioè è stato inserito in un oggetto terminal server cosa vuol dire che io dentro una classe tipicamente al 98% window compreso la stazione del professore inserisco questa penna usb che si chiama netlive potete andare sul sito www.netlive.org o net il professore mette questa pennetta è una pennetta che dà servizio terminal server e quindi magicamente tutti i pc di quel laboratorio possono usare linux loro hanno messo su questo linux il net kit quindi lo studente non deve più avere neanche il cd può non avere neanche la penna usb perché bisogna dire anche questo qualche volta vengono a scuola senza il cd me lo sono dimenticato noi abbiamo negli armadi degli stock però a volte sono esauriti perché non ce li danno indietro e quindi non c'è più questa scusa perché con il loro sistema basta che se lo ricordi il prof almeno e quindi è diventato anche terminal server si potrebbero fare delle esperienze uniche con questo sistema allora vi risparmio perché normalmente per abitudine se l'esperienza riguarda le dap uno fa un targz che contiene come minimo la radice le dap questo è un buon modo di lavorare però ovviamente lo script è ingenuo se ne fregano non è importante questa cosa però un consiglio che eventualmente do a qualcuno che vuole provarlo costruitevi in questo modo perché quando lo aprite in automatico il targ costruisce quindi quella directory e tutto il vostro lavoro sta lì dentro scusate questi consigli magari un po' troppo banali però magari qualcuno che prova dopo si trova con un migliaio di file che sono tutti i punto nascosti che si salva assieme allora dentro questa directory questi sono il contenuto d'accordo vedete che ci sono si vede molto male però comunque ve lo leggo io questo è l'edap uno l'edap due l'edap tre abbiamo detto che useremo tre l'edap d'accordo poi io ho simulato anche l'infrastruttura non completamente nel senso ed ossedi anche adesso sono collegate da una VPN e ci sono due di quegli oggetti che vi dicevo prima che sono due distribuzioni cioè due alix due scatolette che hanno una compa flash dove noi carichiamo un oggetto che si chiama una distribuzione che si chiama microbearing la stiamo sostituendo anche questa e abbiamo visto che la debbia va benissimo adesso anche sugli sistemi embedded abbiamo due sistemi wifi per esempio con la debbia stabile di adesso stanno su da quasi due anni insomma non c'è nessun problema quindi stiamo migrando tutto anche negli embedded a debbia adesso fra poco esce comunque avremo un po' di problemi perché cambia allora sono collegati con una VPN le due sedi con due router ecco io dopo quando si simula una situazione non è che si deve simulare completamente perché intanto si impazzisce dai dai dettagli e dettagli non significativi non mi interessa tirare su proprio una VPN d'accordo però il router R1 R2 il router che attraverso cui passa il traffico sì perché perché c'è un problema di controllo del traffico cioè almeno quello lo verifico non serve mettere su a VPN perché a VPN mi serve nel mondo reale oppure come potete vedere se andate nel sito ci sono esperienze che testano proprio una VPN ora se devo fare a VPN mi tiro giù l'esperienza sulla VPN se devo studiare questo metto semplicemente un router che mi fa e mi controlla il traffico voglio mettere su un firewall ok quello c'è d'accordo perché se il problema mio è capire come far passare il traffico tra il server primario nella sede e la DMZ allora quel router deve avere le regole di firewall d'accordo perché io devo testare questa funzionalità allora questa componente c'è d'accordo quindi il bello della simulazione è questo che io quando faccio un modello posso prendo le cose che per me sono importanti ed escludo completamente le cose che non sono importanti che mi caricherebbero per nulla sono sicuro che sono da fuori tempo allora quindi simula una cosa adesso andremo sul tecnico sul tecnico vuol dire che si va su argomenti tipo routing perché perché allora la rete che andiamo a simulare non è banale non è banale quindi si tratta di lavorare su una sede centrale che ha un back una sede staccata e una DMZ il diagramma il diagramma è questo adesso vediamo un po' eccolo qua abbiamo 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 allora il nostro bellissimo simulatore che è questo pc d'accordo cd usb in questo caso usb controllate sempre quando tirate giù che sia l'ultima versione e qui c'è una versione netkit viene etichettato col numero di versione degli script il numero di versione del kernel e il numero di versione del file system queste sono le tre cose quindi lui ha un codice a tre cifre che rappresentano questi tre aspetti scripting kernel e file system della macchina virtuale dopo di che noi qui abbiamo un gate che rappresenta il modo di entrare del reale questo è un oggetto reale l'unico oggetto reale il modo di lavorare di entrare sul virtuale non è necessario nel senso che si potrebbe connettere il netkit direttamente questo sarebbe il backbone ma è più pulito non ci costa niente una macchina virtuale costa tipo 10 megabyte d'accordo allora visto che costa così poco perché non usarla e rendere la topologia più semplice più immediata d'accordo quindi questo è il gate sia di comunicazione del mondo virtuale con il reale e viceversa perché serve beh allora ogni macchina quando nasce apre un Xterm quindi non ci sarebbe necessità di connettersi alla macchina virtuale perché ho un Xterm e quindi posso dare i comandi direttamente sulla finestra ho necessità perché per esempio vado molto male a scorrere archivi ldapp a script perché uno può essere abbastanza abituato a usare la bash giusto però a usare un ldapp search un ldapp modify un ldapp add che sono i comandi a terminale degli ldapp e qua andiamo sul complesso d'accordo non esiste la programmazione call for dei sistemi ldapp d'accordo esiste un ldapp immerso in perle oppure in sì immerso in un linguaggio di programmazione o in python per esempio quindi mi serve una cosa facile che è un browser ldapp questi oggetti qua non hanno interfaccia grafica perché l'unica cosa che abbiamo è un Xterm a carattere quindi d'accordo io lo connetto con il gate questa macchina qua ha grafica perché la stiamo usando in questo momento qui lancio su tiro su un browser in questo caso un browser ldapp noi usiamo è già incorporato uno poco conosciuto non java perché java mangia come un bue e noi usiamo un pacchetto che si chiama GQ e lui attraverso il gate parla con il server ldapp e noi vediamo graficamente lo possiamo scorrere d'accordo quindi la connettività è un aspetto secondario che serve però ogni volta noi vogliamo interfacciarci graficamente tipo io tiro su un server web è chiaro che l'Xterm e il PS lo vedo su è chiaro che usando booghet io posso prendere la pagina d'accordo però non potrò mai vedere una pagina tipo posso usare i sistemi virtuali per imparare Moodle per imparare Joomla per imparare insomma una piattaforma web ho visto anche qualche docente che si porta dietro la piattaforma web virtualizzata d'accordo perché come dire le scuole sono prese male non hanno neanche questo e allora uno cosa fa si porta un sistema virtuale con Moodle dentro lo attiva dentro il laboratorio fa accedere i studenti correggia i compiti e dopo la chiude se la porta a casa e la riapre a casa ecco ma per vedere i risultati devo avere un browser per esempio Firefox che riesce a connettersi dentro quindi il gate non è obbligatorio ma è necessario ogni volta io voglio lavorare graficamente perché non c'è grafica all'interno del mondo virtuale quindi le cose che sono allora l'Ledap 1 sta in questo è proprio la topologia del nostro problema allo zuccante in pratica l'Ledap 1 è quindi quello che sta in via Baglioni l'Ledap 2 è quello che sta in via Cataneo e l'Ledap 3 sta in via Baglioni zona DMZ serve per gli accessi da fuori allora la problematica quanto tempo ho? zero ditemi intanto ho sporato vado avanti dopo se uno togliete la corrente io capisco allora la problematica dei server Ledap nel 2006 era che allora esisteva così è l'architettura attuale esisteva il concetto di Master Slave quindi esiste nel 2.2 adesso nella versione 2.4 dell'Ledap è stato dismesso però qualcosina funziona ancora della vecchia versione comunque c'era il concetto Master Slave cosa vuol dire e poi Master Unico cosa vuol dire che ho un server unico Master dove io posso fare l'operazione di scrittura l'unico d'accordo e quindi questo era in via Baglioni nel backbone e poi esistevano i due slave uno slave in sede di staccata e uno slave in DMZ non scrivibili ovviamente voi sicuramente essendo italiani vivete della fragilità della connettività data da Telecom Italia e noi la viviamo viviamo quotidianamente e questo modo di connettere Master e due slave ci ha fatto molto soffrire perché cadendo spesso la connettività con la sede staccata la sede staccata poteva solo leggere i dati questo è grave quando io voglio cambiare la password per esempio sono in sede staccata voglio cambiare la password allora certamente riesco a autenticarmi d'accordo perché accedo allo slave in read only però quando voglio cambiare la password mi sa che fra poco ho finito quando voglio cambiare la password voglio scrivere e la password è scritta sulle led up d'accordo la connettività è a zero è caduta non può cambiare la password telefonata oh non funziona niente d'accordo e non vi mostro il contratto che paga lo zucante comunque è abbastanza salato comunque la soluzione è adesso cambiando tutte le versioni eccetera metter su un multi master cioè multi master vuol dire che posso scrivere su tutti e due server contemporanea alla faccia della telecom che non mi dà connettività e alla riconnessione della VPN i due multi master si parlano ovviamente io devo c'è scritto il multi master funziona se io setto bene l'orologio con l'NTP sui server perché se no non capiscono l'operazione che è stata fatta prima e dopo viene fuori un macello quando fa il merge e variazioni alla riconnessione d'accordo poi c'era un altro problema voi tutti sapete che gli amministratori di sistema non vogliono che dalla DMZ si entri nel backbone vogliono che dal backbone al massimo si esca nella DMZ d'accordo? e quindi ho dovuto un po' studiare e rinnovare le mie conoscenze non so se ho esaurito perché c'è molto da studiare sul sistema di sincronizzazione della replicazione ho dovuto studiare come far uscire dal dal multimaster e far contattare i server qui fuori d'accordo? perché la tecnologia di replicazione è stata inventata da loro così è sempre il consumer che si attacca colpifero cioè io non riesco da qua è andato io non riesco da qua a far uscire proprio perché c'è il firewall ma è molto bello l'LEDAP 2.4 nuovo perché ha delle tecnologie per cui io posso installare nel master nel master un proxy che fa il push verso il server in DMZ e quindi capito questo dal manuale dell'amministratore di server l'EDAP uno si configura il sistema vi faccio allora volevo mostrarvi ci ho messo tantissimo ve lo faccio vedere che parte insomma intanto e che sfogliare per esempio un server allora c'è un file di configurazione che rappresenta allora il mio nodo reale per raggiungere almeno le tre reti che ho a disposizione perché le reti a disposizione hanno i P diversi sono su classi diverse quindi non è che questa macchina per magia si connette a tre tipologie di rete o a una quarta se fosse collegata a wifi sapete che bisogna settare il routing quindi la prima cosa ancora prima di fare le cose è settare questi routing c'è uno script che fa semplicemente questa roba qui siccome agisce a livello di routing bisogna essere super utenti ovvio oppure col sudo in modo alla ubuntu dopo di che si lancia proprio tutti la famosa università UniRoma 3 ha costruito degli script e questi script si chiamano per esempio uno di questi si chiama LSTART che sta a significare start dei sistemi virtuali dell'esperienza quello è Runace però questo è un portatile che ha un Pentium 1.4 quello più piccolo e la velocità è paragonabile d'accordo per cui non è che stiamo girando cioè sull'Azer girerebbe alla stessa velocità e queste sono le nostre abbiamo tre server led up che stanno facendo il boot d'accordo e configurandosi e tre router che sono quelli dell'esercizio d'accordo per fare i fighi possiamo io uso un oggetto che si chiama Devil's P questo qui è un oggettino che non fa nulla ma dispone nel cubo di Compitz per farlo vedere bello le macchine e quindi uno qui può girare il cubo e vedere ho preso il mouse e scollegato qui io ho costruito questo desktop che contiene l'infrastruttura cioè i tre router d'accordo questi sono va bene pubblicità progresso però e qui ci sono i tre server e le data d'accordo per pulizia insomma qui vedete è possibile vedere qui è possibile vedere anche l'installazione è andato veloce per esempio noi allo Zuccante non siamo andati brutalmente sempre con gli IPTable io sono dell'idea che bisogna lavorare sempre a un livello un po' più elevato ma non perché siamo intelligenti ma perché non ce la facciamo a gestire le cose e io ho sempre usato un costruttore di script IPTable che si chiama Shorewall d'accordo per esempio la macchina virtuale questa non ha Shorewall e se andiamo a controllare cosa è successo credo qua in questo aspetto qua è stata installata quindi era l'esempio che vi dicevo prima quando io sul file system non ce l'ho un pacchetto non c'è nessun problema non è che posso usarlo il sistema non posso sperimentarlo lo installo al momento dello start-up chiaro? allora adesso per esempio qui ho i miei voi tutti sapete che con LDAPSearch meno X si può fare la lista delle entry in LDAP e qui per esempio se ne vedono alcune d'accordo però questo che vi dicevo è lo scripting sono i comandi di scripting non possiamo usarlo in questo modo d'accordo? allora noi io lancio il bellissimo lancio il bellissimo GQ è piuttosto spartano però lo preferisco a browser Java appunto che sono pesanti per carità non sto dicendo funziona meglio o peggio però questo è leggero e lo usiamo ormai dicevo appunto dal 2004-2006 quindi funziona d'accordo? e qui per prova ho già messo le indicazioni LDAP1 questo è ancora LDAP1 LDAP2 e 3 e io cliccando posso accederci d'accordo? vedete così qui ci sono in questo caso non ci sono gli utenti e qui inizia la vera esperienza d'accordo? perché qua adesso io ho studiato mi metto nell'ipotesi dell'esercizio cioè ho studiato il manuale l'amministratore di LDAP2.4 e ho scritto i file di configurazione l'ho tirato su e adesso vedo se ho capito o le cose che sono poco chiare e le approfondisco d'accordo? tutto un laboratorio che ovviamente io posso cioè mi telefono vado fuori di casa salvo tutto cioè non mi salvo ovviamente tutto il desktop mi salvo i file di configurazione avete visto? io dopo lancio il comandino che mi tira su quindi tutte le mie modifiche non le perdo d'accordo? e poi me le posso portare con me quest'anno in agosto ero in ferie avevo questo qui l'Acer One che ogni tanto mi connettevo e potevo provare a finare questa esperienza d'accordo? quindi qua io posso provare se ho capito e ho configurato bene nel Multimaster inserisco delle entry per esempio vado per esempio sul Multimaster 1 che è quello del backbone e per esempio aggiungo mi sono fatto lo scrittino si chiamava diversamente in italiano shell user no? e contiene uno scriptino che aggiunge tre entry che sono tre utenti e qua adesso comincia l'esperienza nel senso vado a vedere se l'altro Multimaster sono comparsi d'accordo? primo verifico vabbè quando scrive così sicuramente c'è d'accordo l'entry però col browser posso andare mi connetto sull'1 a verificare che sia vero d'accordo? questo è banale però può anche non essere successo vado sul 2 e vedo se è replicato vado sul 3 in DMZ e guardo se sono stati replicati perché sì perché no come eccetera d'accordo? quindi è un bellissimo secondo me ovviamente sono un po' il papà non del progetto ma semplicemente dell'impacchettamento e dell'idea di usare questo qui nella scuola soprattutto riguardo ai servizi non all'ambiente routing che è proprio proprio del NET kit stesso credo che insomma spero di non avervi annoiato e che vi abbia dato magari qualche qualche idea insomma qualche idea ci sono delle domande no dai che sta finendo si è fermato va bene così d'accordo mi ringrazio molto grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti